Sono Andrea Talolo, provate la pizzeria alla finestra, attività nuova, due anni che abbiamo aperto, l'abbiamo ristrutturato integralmente, ci riteniamo artigiani di tutto quello che facciamo perché il 90% di quello che mangiate da noi lo produciamo internamente, non ci sono. Niente, siamo dietro l'uscita del Teatro Comunale vicino a Piazza della Vittoria.